Balla Mary! Danny, hai provato basket, baseball, lotta, forse proviamo con uno sport con meno contatto fisico. Che ne dici di una bella corsa campessa? Va bene, va bene, proviamo. Ok. Un po' corretto. Un po' corretto. Sei tutto bene? Dai, parlami. Va bene, parlami dopo il modo in cui mi hai trattata. Il modo in cui mi hai trattata? Sto con la tua. Listo, ti ho fatto parlare. Ma ti sei fatto male? No, no, niente, niente. Ma esci ancora con Tom, quello lì? Beh. No, ma ci vai con lui al bando? Questo dipende. Allora. 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 Grazie.